Si è levato un colo di chi quando ho proposto, propostatamente, di affidare a mia figlia Genè il posto di primario nel reparto di cardiochirurgia all'ospedale? Lo scoop di questo invamone bastasse sarebbe che mia figlia non è laureata. Che cazzi gli serve la laurea? La laurea, la laurea. Mia figlia ha due mani da fata, può operare.